Stiamo presentando un progetto che permetta di realizzare una riqualificazione di una delle piazze di accesso e di apertura anche per i turisti e non solo per i residenti della città di Palermo. Piazza Fonderia che è attualmente in una situazione dove delle migliorie possono regare beneficio alla visibilità di tutta la città è stato oggetto di uno studio da parte dei tecnici della Casa di Cura che vorrà essere proposto al Comune. Questo progetto che si basa sulla riqualificazione che riguarda gli arredi urbani, le aiole, le potature degli alberi, l'istituzione di coperture tipo gazebi che possono essere utili alla fruibilità della piazza da parte di tutti i cittadini. Oggi la circoscrizione, la prima circoscrizione è stata chiamata in causa, in aula consigliare per la presentazione del progetto su piazza Fonderia. Io credo che questo sia un atto che vada incontro al decentramento dove la circoscrizione in qualche modo valuta tutto ciò che i residenti e i cittadini intendono fare anche alla luce del nuovo regolamento del Comune che in qualche modo unisce cittadini e amministrazione pubblica. Seguirà l'iter che deve eseguire, quindi andrà al sindaco, alla città storica, alla sovrintendenza per le valutazioni definitive e finali dello stesso.